Buonasera, con questo video vorrei salutare gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia e celebrare il settimo centenario della morte di Dante con una pillola dantesca sull'undicesimo canto del Paradiso. I cinque minuti che dedicheremo a questa analisi si vogliono un umile omaggio a quella straordinaria opera che è la Commedia, in quest'anno così importante per la dantistica mondiale. L'undicesimo canto del Paradiso, incentrato sulla storia di Francesco da Sisi, si colloca all'interno della terza cantica, dopo il viaggio tra la perduta gente dell'inferno e il passaggio tra le anime del Purgatorio. Dante ha oramai compiuto più dei due terzi del suo viaggio oltraterreno ed è giunto nel cielo del sole, dove risiedono gli spiriti sapienti. Va sottolineato che nel cielo del sole spiccano due canti gemelli, ovvero il dittico che intesse le lodi dei fondatori dei due ordini mendicanti, Francesco da Sisi e Domenico di Guzman, dai quali prendono nome i francescani e i dominicani. In tale contesto è Tommaso d'Aquino, il maggior teologo dell'ordine dei dominicani, a fare l'elogio di Francesco nell'undicesimo canto del Paradiso, mentre Buonaventura da Bagnoreggio, teologo francescano, si occuperà di lodare la vita di Domenico di Guzman nel dodicesimo. Il parallelismo che viene a crearsi mostra l'idea che Dante aveva dei due ordini mendicanti, inserendoli nella stessa unità di intenti, nello stesso modo di concepire la vita cristiana che si fonda sulla scelta pauperistica, ossia sulla povertà volontaria che permette alla creatura di allontanarsi dal mondo per volgersi a Dio. Leggo i versi di Dante che già all'inizio dell'undicesimo canto, il canto di Francesco, insiste sulla guida provvidenziale dei due principi affinché la Chiesa fosse ricondotta alla povertà di Cristo. La provvedenza che governa il mondo, con quel consiglio nel quale ogni aspetto, creato e vinto pria che vada al fondo, però che andasse per lo suo diletto, la sposa di colui, che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quince quindi le fossero per guida. I due principi ai quali la provvidenza diede il compito di ricondurre la Chiesa verso la vita di Cristo sono per l'appunto Francesco e Domenico. Ma nonostante siano entrambi volti ad una riforma della vita religiosa e delle strutture ecclesiastiche dell'epoca, i due principi hanno caratteristiche proprie, poiché lo stesso Dante afferma che l'un, cioè Francesco, fu tutto serafico in ardore, mentre l'altro, che è Domenico, per sapienza in terra fue, di cherubica luce, uno splendore. Se per la sapienza di Domenico è chiaro perché Dante scelga il cielo del sole come luogo più idoneo al suo elogio, bisogna comprendere perché uno spirito sapiente, cioè il teologo Tommaso d'Aquino, canti della vita di Francesco che mai si dedicò allo studio. Proprio Francesco scrisse nell'epistola 39 all'ordine di ritenersi ignorance et idiota e non cambiò idea nel suo testamento, evocando i bei tempi in cui lui e i suoi frati erano senza cultura e sudditi a tutti. Si sa anche quali fossero state le reticenze dell'ordine ad accettare gli studi di teologia, poiché nel decimo capitolo della regola bollata lo stesso Francesco esorte i frati che non conoscono in latino a non preoccuparsi di impararlo. La scienza può infatti condurre alla vanagloria e alla superbia, mentre l'amore per gli altri avvicina la creatura a Dio. Occorre però ricordare che benché vi sia questo iato tra la sapienza di Domenico e l'ignoranza del povero D'Assisi, i due principi rispondono allo stesso disegno provvidenziale. E infatti, proprio Tommaso d'Aquino, che si accinge a lodare la vita di Francesco, dice che le opere dei due santi furono ad un fine, cioè volte entrambe nella stessa direzione e volute entrambe dalla provvidenza per il conseguimento dello stesso obiettivo. Ma in cosa consiste la sapienza di Francesco? Non consiste nella scienza teologica, che San Domenico usò per combattere soprattutto le resi e catare radicate nel sud della Francia, ma appunto nella sua vita, nella capacità di ricondurre, tramite il suo esempio, la povertà di Cristo in seno alla Chiesa. In Francesco si vede dunque l'incarnazione del Verbum, ovvero un uomo che tramite la sua vita, tramite le sue opere, dà consistenza ai precetti e ai consigli del Vangelo, rendendoli visibili agli occhi dei fedeli. E proprio questa adesione perfetta alla vita di Cristo valse a Francesco le stimate sulla Verna, come lo stesso Dante ricorda scrivendo che sul crudo sasso, appunto il monte della Verna, in Tratevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo. Il sigillo è il segno dell'approvazione di Cristo delle opere da lui compiute, un'approvazione che segue i due sigilli pontifici di Innocenzo III e Onorio III apposti sulla regola francescana. È dunque soprattutto tramite l'esempio, non la parola, che il povero d'Assisi ricondusse a Cristo l'insieme dei fedeli. Per questo l'elogio dell'undicesimo canto del Paradiso inserisce sin da subito la vita del santo all'interno del contesto cittadino, dove la sua carità iniziò a far sentire alcun conforto ai poveri ed ai lebrosi, e dove sposò la povertà di fronte al tribunale episcopale di Assisi. Non era ancora molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentire la terra della sua gran virtù alcun conforto, che per tal donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui, come alla morte, la porta del piacer nessun disserra. E dinanzi alla sua spiritual corte e coran patre le si fece unito. Poscia di Dindi l'amò più forte. L'esempio non può essere scisso da una certa visibilità, e sia la carità giovanile, che gli valse gli insulti e gli scherni dei suoi concittadini, sia la rinuncia plateale ai propri beni di fronte a tutta Assisi, permiso a Francesco di colpire i fedeli, cioè di rendere efficace la sua azione. E' proprio la forza trascinante del suo esempio, la visibilità della sua scelta e di conseguenza la possibilità di imitarlo per avvicinarsi alla vita di Cristo, decisero i primi compagni a seguirlo sulla via della vita minoritica. E infatti, dopo aver citato l'amore di Francesco per Madonna Povertà, così come la conversione di Bernardo di Quinta Valle, Dante cita altri nomi di altri suoi compagni, inserendoli in un contesto retorico che mostra la formazione progressiva di una vera e propria famiglia che cammina sulle orme di Francesco. In quanto esempio di vita, Francesco era imitabile da tutti coloro che anelavano un rapporto più diretto, più intimo con Cristo, che le strutture tradizionali dell'epoca non permettevano. Se la sapienza di Francesco equivale alla sua adesione alla vita di Cristo e se la sua azione è efficace in quanto esemplare ed imitabile, bisogna ancora chiarire su cosa si fondava di preciso la sua vita. Essa non si fonda sulla semplice povertà storica, ma sulla scelta di essere povero, sulla povertà volontaria che permette all'uomo di allontanarsi dai beni terreni e paradossalmente di diventarne allo stesso tempo il vero padrone. Smettere di desiderare per sé significa infatti ergersi al di sopra della materialità del mondo e quindi avvicinarsi a Dio. La saggezza di Francesco è dunque la povertà di spirito cristiana, quell'allontanamento volontario dai beni materiali che il povero d'Assisi sembra richiedere ai suoi frati sul punto di morte. Quando a colui che a tanto ben sortillo piacque di trarlo susa la mercede, che il meritò nel suo farsi pusillo, a frati suoi siccome a giuste rede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede, e del suo grembo l'anima preclara muoversi volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara. Con l'elogio di Francesco Dante comprende che la povertà di spirito è l'origine della beatificazione, poiché l'amore di sé, che si nutre del possesso dei beni materiali, inorgoglisce l'uomo e lo allontana da Dio. Grazie per la vostra attenzione.